ragazzi allora stiamo così alla migenia di questo sinigliaione ok e per me sarà una semifinale di fuoco che comunque questo mese di maggio saranno tutte le partite invocate e quindi ricapitolando a quello che stavamo dicendo ieri perché l'interamento però lo ha meritato è vero però hanno meritato di vincere e quindi non bene così però il fatto è che ha vinto e ne è passato il turno e quindi è la prima finalista dell'edizione della Champions League perché comunque stasera c'è il Real e City ok o City Real è la stessa cosa perché non cambia e qua ci siamo va bene per ogni punto mi dovete anche iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivando le notifiche per non perdere il post partita a quello di domani sera che verrà contro Esimilia quindi mi raccomando lasciati anche un like e commenti per la partita di domani ok quindi chi sarà il finale dell'edizione di Europa League? bene oggi lo scopriamo allora iniziando a partire dal presupposto che la Roma ha vinto per una 0 l'olimpica contro il Bayern Meverkusen e domani farà una grande partita però non è come la Juventus che va oltre quindi questo è tutto però io dico sia la Juventus che la Roma andranno in finale questo è il mio pronostico ok? quindi mi raccomando è sempre fuori o la fine 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 è sempre fuori o la fine